Ti sei mai chiesto perché alcune persone a parità di anni presentano sul viso segni più accentuati e altri meno? Per segni intendo piccole rughette, piuttosto che zone scure sotto gli occhi, o rossori, o la presenza di brufoli. Secondo la medicina tradizionale cinese e l'ayurveda, ad ogni parte del viso corrisponde un organo interno. E quindi, a seconda della zona in cui compaiono i segni, ci indicano lo stato di salute di quell'organo specifico. Ovvero, ci indicano quali organi interni sono energeticamente più stanchi. Per farti qualche esempio, la zona sotto gli occhi corrisponde al funzionamento dei reni, oppure la zona del mento corrisponde all'apparato genitale. Ed ecco dove voglio arrivare. Praticando lo yoga facciale, non solo vai a tonificare e a modellare i muscoli del viso, vai anche ad attivare e a massaggiare gli organi interni. Credo che questa sia una cosa molto importante e che dà valore aggiunto a questa disciplina.